Una vita in onda Si aprirà dunque un periodo molto difficile per gli abitanti del paese, tutti colpiti in un modo o nell'altro dalla tremenda calamità e dalle sue tristi conseguenze Se Antonitos comparirà nel nulla, Diego si darà da fare per aiutare i numerosi feriti accasciati nelle strade piene di detriti e polvere Una vita puntata lunedì 19 novembre, Ursula non salva Pablo. La settimana si aprirà con uno degli eventi più traumatici per tutta la comunità di Apacias, ovvero un tremendo terremoto La puntata di Una vita in onda lunedì 19 novembre sarà assolutamente drammatica, con la devastazione che la farà da padrona Arturo verrà salvato da Simon e Lolita da Antonito, invece per Pablo non ci sarà nulla da fare e dovremo dirgli addio a breve Infatti l'uomo verrà investito dalle macerie e per sfortuna sua l'unica che al momento potrebbe aiutarlo sarà la maligna Ursula, che ovviamente non lo farà lasciandolo lì Una vita anticipazioni dal 19 al 23 novembre, Canale 5, Pablo More. Il caos sarà il protagonista assoluto di una vita in questi episodi, con ospedali pieni di feriti e molta gente disperata, soprattutto Leonor che non avrà alcuna notizia del povero Pablo Per aiutare la popolazione Diego organizzerà un pronto soccorso in strada e poi deciderà di curare in casa i feriti messi peggio, cosa che ovviamente non piacerà alla vicenda Nel frattempo Antonito coglierà l'occasione per sparire per allontanarsi dai suoi guai, lasciando nel dolore Lolita e tutta la sua famiglia che lo crederanno disperso sotto le macerie Simon verrà ringraziato da Arturo per l'aiuto ricevuto ma preferirà mantenere comunque le distanze dall'uomo Le anticipazioni di una vita per gli episodi in onda da metà settimana riportano che Antonito deciderà comunque di tornare dai suoi familiari e da Lolita, proprio per amore della ragazza Invece Leonor continuerà a non avere notizie di Pablo, mentre Adela troverà il suo amato Carlos tra i feriti che Diego sta aiutando Il ragazzo vorrà sapere da lei i motivi delle bugie che ha raccontato su loro due, Adela confesserà che era un modo per sentirsi meno sola ma continuerà a mentirgli a proposito di Simon Infine, nella puntata di Una vita in onda venerdì 23 novembre ci sarà il grande dramma della morte di Pablo, che verrà trovato dai soccorritori appena in tempo per spirare in braccio all'amata Leonor Sempre in questo episodio Diego prometterà a Ursula di riuscire a cacciarla dalla famiglia, proprio poco dopo che la donna avrà rivelato alla figlia Blanca di aver indotto la sua amica Marion al suicidio